C'è una petizione su Change.org che ha bisogno di molte firme a sostegno riguarda la cosiddetta Terra dei Fuochi del Vallo di Diano ed è stata lanciata da quelle di Ciao Ragazzi un gruppo di donne e mamme valdianesi libere, come si definiscono, senza tappi sulla bocca e con le ali spiegate a tutela del territorio e degli interessi della collettività. La petizione è diretta al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, della Salute Roberto Speranza, al Senatore Francesco Castiello, al Presidente del Parco Tommaso Pellegrino e a tutti i sindaci del Vallo di Diano. Chiedono a gran voce provvedimenti e atti donne a salvaguardare l'ambiente e a tutelare la salute dei cittadini valdianesi martoriati finora dal silenzio e dall'indifferenza. Nella petizione si fa riferimento ai recenti episodi dell'ottobre 2019 che hanno confermato la presenza di illeciti ambientali in continuità con quelli verificatisi nel 2006-2007 venuti fuori grazie all'inchiesta Cernobil, condotta dalla Procura di Santa Maria Capoavetere, ma anche ai più recenti riscontri sul bovino proveniente da un allevamento del Vallo di Diano, sul quale erano state rilevate delle lesioni anomatopatologiche al polmone di sospetta natura neoplastica. Tutto riportato nell'interrogazione del Senatore Castiello e Ministri dell'Ambiente e della Salute, che però dopo nove mesi giace ancora senza risposta, nonostante il regolamento del Senato preveda 20 giorni per un riscontro. Nella mappa nazionale delle aree contaminate non figura il Vallo di Diano, ma in considerazione dell'aumento esponenziale di decessi per patologie tumorali in fasce di età sempre più giovani, quelle di Ciao Ragazzi chiedono che invece venga riconosciuto quale area contaminata con i necessari ed ormai indifferibili interventi e provvedimenti delle istituzioni e la conseguente bonifica. Chiedono anche ai sindaci di adoperarsi per l'istituzione di un commissariato di polizia al fine di garantire controllo e sicurezza in un territorio crucevia di interessi criminali.